All'Agrigento da oggi venerdì 5 a domenica 7 ottobre si svolge con il patrocinio del Comune e dell'Azienda Sanitaria di Agrigento l'iniziativa Tieni a mente il tuo cuore e tieni a cuore il tuo cervello. Al Viale della Vittoria in Piazza Cavour dalle ore 9 alle 19 sono effettuati degli screening cardiovascolari alla cittadinanza. La manifestazione è organizzata dall'unità operativa di cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento diretta da Giuseppe Caramanno. Oggi abbiamo iniziato i tre giorni di prevenzione cardiovascolare per il quarto anno di fila. Devo dire una buona affluenza, abbiamo già eseguito circa 50 visite con screening cardiologico completo, elettrocardiogramma, controllo della pressione, rilievo di glicemia e colesterolemia. Devo dire che la visita viene anche addolcita dalla colazione offerta dal Barsaieva, per questo lo ringraziamo. Continueremo nella giornata di oggi pomeriggio, sabato tutto il giorno e domenica mezza giornata. Quindi invito tutti i cittadini a fare prevenzione perché ancora oggi, dopo molti anni, siamo qui a parlare di prevenzione cardiovascolare per cercare di correggere quei fattori di rischio corregibili come il colesterolo, l'ipertensione, l'abitudine al fumo che poi sono alla base dell'insorgenza delle malattie cardiovascolari. Inizia ieri il nostro evento, questa tre giorni, per la prevenzione cardiovascolare, iniziato ieri con la conferenza stampa ai Filippini e inizia oggi materialmente con le visite di screening cardiovascolare, misurazione del colesterolo, della pressione e della glicemia dei pazienti che eseguono anche l'elettrocardiogramma per cercare di ridurre quella che è l'incidenza delle patologie cardiovascolari che passano inosservate spesso e volentieri. Questo evento è un evento importantissimo per la popolazione agrigentina in quanto con questi banali esami, chiamiamoli così, che possono essere di routine, si riescono a vincere delle patologie che hanno un grossissimo peso a livello sanitario come per esempio l'infarto del miocardio e l'ictus o la fibrillazione atriale che è una causa importantissima di ictus cerebrale e di invalidità. L'evento è come ogni anno, questo è il quarto anno sempre più partecipato, già abbiamo persone in fila che attendono di essere visitate nonostante la nostra velocità, i nostri quattro stand allestiti. L'evento inizia oggi e proseguirà fino alla domenica mattina con un impegno massivo di medici e infermieri dell'ospedale San Giovanni di Dio e per questo ringraziamo l'organizzazione di questo evento, il dottore Caramanno e tutte le persone che hanno sostenuto l'iniziativa affinché anche quest'anno si sia riuscita a dare una mano alla popolazione agrigentina in termini di prevenzione cardio e cerebrovascolare.